L'idea nostra è stata quella di parlare prima di tutto con i gestori e la proprietà in modo da capire come circoscrivere il problema. La realtà si trova in un'area abbastanza poco fitta di case, però quelli che ci sono possono anche avere delle rimostranze da farci. Per quanto riguarda il rumore, molto probabilmente tutto verrà risolto anche grazie a delle rilevazioni che faremo con enti preposti a farlo, in modo da dare una risposta definitiva sia a chi gestisce il locale sia ai vicini. Per quanto riguarda le segnalazioni fatte al comune, il regolamento comunale relativamente alle emissioni sonore dice che le 24 sono l'orario limite. Bene o male è quasi sempre stato rispettato e quando non lo è stato sono state chiamate le forze dell'ordine. La situazione è oggetto di nostro monitoraggio continuo, nelle prossime settimane verificheremo che quelle che sono le prescrizioni e i consigli, che finora sono consigli poi potrebbero diventare anche obblighi, dati alla proprietà e ai gestori siano rispettati. Se non lo faranno saremo pronti anche ad intervenire in modo più pregno di significati e di iniziative da parte comunale.